ciao a tutti e benvenuti sul mio canale andiamo a vedere ora questo video del pane chioffone è un pane che è originario del napoletano abbiamo già fatto questo pane però forse questo è un po diverso cambia un pochino la ricetta l'abbiamo fatto un gruppo nuvola un amore di pastamagli vediamo quest'altra ricetta vediamola insieme seguitemi allora ho preparato le farine userò la farina di tipo 2 e la semola 100 grammi di semola naturalmente potete anche variare magari se volete mettere 150 di semola e meno tipo 2 è lo stesso allora farò anche questo impasto a mano perché è la caratteristica di questo pane quindi un impasto a mano proprio grezzo userò i licoli ci metto vedete sto versando l'acqua quasi tutta adesso ci metto sopra i licoli 80 grammi possono bastare ecco qua o se volete mettere la pasta madre vi metto poi il link di conversione perché tante volte me lo chiedete spesso c'è un link che semplicissimo convertire i licoli o viceversa in pasta madre allora finisco di mettere quasi tutta l'acqua mi lascio un pochino da aggiungere quando poi metto il sale metto ancora così semplicemente dentro una ciotola vedete con una spatola e giro continuo a girare un pane molto semplice proprio guardate io ci aggiungo un pochino di di malto malto d'orzo un pane che si fa nella zona di napoli semplicissimo da fare basta usare questo questo tipo di farina e un po di semola aggiungo ora il sale finisco di mettere l'acqua quindi l'acqua 350 diciamo che l'idratazione superiore al 70 per cento perché sto usando i licoli se avessi messo la pasta madre avrei aumentato invece di 350 che so 370 di acqua allora giro con quest'altra spatola più morbida e forse un pochino meglio e poi volendo si può fare direttamente con le mani aggiungo l'olio io di solito l'olio non lo uso ma in questa ricetta è previsto anche l'olio e quindi ce lo metto soltanto 10 grammi su 500 di farina ora non so a napoli questa parola caffone che cosa significa magari ha un altro significato come qui da noi a roma ma caffone significa un tipo un po' rozzo non tanto raffinato il senso di caffone è questo quindi forse proprio questo ho letto altre storie su questo pane però la parola caffone per me dovrebbe significare un po' rustico no? non raffinatissimo penso comunque vabbè ecco questo all'impasto vedete appunto rozzo proprio semplice semplice dopodiché va messo a lievitare in frigo io l'ho tenuto una mezz'oretta fuori poi l'ho coperto con la pellicola e l'ho tenuto in frigo fino alla mattina eccolo qua poi l'ho tirato fuori l'ho lasciato un pochino a temperatura ambiente almeno un'ora adesso fa caldo un'ora può bastare ok ed ora procedo per fare un giro di pieghe quindi ho messo un po' di farina la farina ci vuole perché è molto molto morbido eccolo qua ho messo un po' di farina farina zero o la 2 quella che avete usato per fare l'impasto quindi vado ad allargarlo così lo giro anche e ci faccio un semplice giro un po' di pieghe le classiche pieghe a 3 ok quindi come dicevo prima 12 ore io ho raggiunto le 12 ore con anche il tempo che l'ho tenuto un po' fuori quindi ho visto che era lievitato e non erano proprio 12 ore di frigo saranno state all'incirca 10 ore quindi regolatemi anche un pochino poi l'ho tenuto fuori un'oretta anche due mi sa e procedo procedo per le pieghe ora lo metto ancora dentro una ciotola dove ho messo un po' di olio e qui lo faccio riposare un'altra ora sempre coperto lo tengo così a temperatura ambiente coperto un'altra oretta bene eccolo qua adesso lo vado subito a formare quindi vedete è un pane molto idratato e allunga lievitazione sempre con il passaggio in frigo perché è una farina di tipo 2 e la lunga la lievitazione deve farla in frigo anche il filone va formato molto semplicemente naturalmente la cottura di questo pane la ricetta andrebbe cotto a legna però purtroppo io non ce l'ho se ce l'avete questo è un pane che va cotto a legna però lo faremo tranquillamente nel nostro forno di casa allora piego così come vedete ok anche una bella pagnotta volendo arrotolo ed eccolo qua chiudo bene metto la semola adesso metto un po' di semola sotto e sopra vedete come è morbido morbidissimo ok io lo metto nel cestino che uso sempre per lievitare ma volendo anche in mezzo ad un telo sopra una teglia un suolo stringendolo va bene uguale con il cestino con il cestino si mantiene bello bello gonfio ci metto la semola in semolo bene sopra e sotto ok lo metto con la chiusura in alto questo perché poi quando vado a cuocere lo ribalto bene lo copro ancora semola lo copro io penso che qui bastano un paio di orette bastano quindi quando vedo che è bello che si è alzato si è gonfiato vado a cuocere allora sono passate l'incirca due ore come vedete si è gonfiato anche perché la temperatura è in salita stiamo a metà giugno e quindi cresce velocemente allora io procedo così lo giro sulla carta forno ci metto un po' di semola e sotto c'è la pala che farò in modo che poi faccio scivolare direttamente nella teglia già calda nel forno che è a temperatura 250 gradi ok eccolo qua vedete è lievitato al punto giusto si mantiene bello bello tondo ora il pane caffone non va tagliato non ci vanno assolutamente tagli si aprirà se lui vuole se decide di aprirsi si apre da solo naturalmente io ci ho messo un po' di crusca sopra eccolo qua un pochino di crusca ci sta bene e vado ed eccolo vedete si sta gonfiando lo farò cuocere 20 minuti a 250 gradi poi piano piano abbasso 220 alla fine proprio alla fine 200 e lascio che so 10-15 minuti a spiffero in questo modo così scusatemi la voce si lo sportello vedete è semi aperto ho dimenticato di dire che all'inizio ho messo due spruzzi di vapore con il mio forno automatico direi che è venuto bene vedete si è appena leggermente aperto poco poco però si è gonfiato bene lo faccio raffreddare un pochino così in piedi e vediamo l'interno ed eccolo questo è l'interno forse lo dovevo far cuocere un pochino di più scusate un pochino di più a 250 dovevo farlo scurire un pochino di più però io direi che va bene gli albeoli non è tantissimo albeolato ma diciamo che sono è al punto giusto bene amici vi ringrazio della visione vi invito a farlo questo pane perché è semplicissimo come avete visto e aspetto critiche dagli amici napoletani ciao a tutti 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 ciao a tutti